In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, Amen. Laudetur Iesus Christus, Semper Laudetur. Maria Sede Sapientiae, Ora Pronobis. Continua la lettura dell'Imitazione di Cristo, Libro I, Capo XXI, della Compunzione del Cuore. Se vuoi fare qualche profitto, conservati nel timore di Dio e non voler essere troppo libero, ma tieni raccolti e disciplinati tutti i tuoi sensi per non abbandonarti ad una stolta letizia. Dati alla compunzione del cuore e troverai la devozione. La compunzione dischiude molti tesori che la divagazione suole ben presto disperdere. E' raro che l'uomo possa perfettamente rallegrarsi in questa vita, se considera il proprio esilio e pone mente a tanti pericoli per l'anima sua. Per leggerezza di cuore e per trascuranza dei nostri difetti non sentiamo i dolori dello spirito, ma spesso vanamente ridiamo quando invece con ragione dovremo piangere. Non c'è vera libertà né gioia sincera, fuorché nel timore di Dio e nella buona coscienza. Felice è chi può respingere ogni distrazione e raccogliersi nell'unità della santa compunzione. Felice è chi rigetta da sé tutto ciò che può macchiare e oda gravare la propria coscienza. Combatti virilmente. L'abitudine si vince con l'abitudine. Se tu sai lasciare gli uomini, essi lasceranno te ad attendere a fatti tuoi. Non trarre a te le cose altrui e non immischiarti negli affari dei tuoi superiori. Tieni sempre l'occhio sopra te stesso prima che su qualunque altro, e te specialmente ammonisci a preferenza di tutti i tuoi cari. Se non hai il favore degli uomini, non volertene attristare. Ma questo siati grave che non ti comporti abbastanza bene e con vigilanza, siccome converrebbe ad un servo di Dio e ad un religioso devoto. Spesso è meglio e più sicuro che l'uomo non abbia in questa vita molte consolazioni, principalmente nelle cose sensibili. Però è colpa nostra se non abbiamo o se di rado sentiamo le consolazioni divine, perché non cerchiamo la compunzione del cuore e non respingiamo recisamente le consolazioni vane ed esteriori. Riconosci iti indegno della consolazione divina, ma degno piuttosto di molta tribolazione. Quando l'uomo è perfettamente compunto, il mondo intero ne riesce grave ed amaro. Il giusto trova materia sufficiente di dolore e di pianto. Poiché o consideri se stesso, o pensi al suo prossimo, egli sa che nessuno vive quaggiù senza tribolazioni, e quanto più seriamente considera sé medesimo, tanto più grande è il suo dolore. Materia di giusto dolore e di interna compunzione sono i nostri peccati e i nostri vizi, nei quali giacciamo così intricati che raramente ci troviamo in grado di contemplare le cose celesti. Se tu pensassi più sovente alla morte che non a vivere lungamente, niente dubbio che ti emenderesti con maggior fervore, e se riflettessi nel fondo del cuore alle pene future dell'inferno o del purgatorio, io credo che volentieri sosterresti il travaglio e il dolore, e nulla di austero ti spaventerebbe. Ma queste cose non penetrano fino al cuore, ed amiamo ancora il diletto, perché restiamo freddi e molto indolenti. Spesso è perché lo spirito è vuoto che così facilmente si lagna il misero corpo. Prega dunque umilmente il Signore che ti accordi lo spirito di compunzione e dico al profeta Nutrisci mio Signore col pane delle lacrime e dammi da bere con larga misura di pianto. Laudetur Iesus Christus, Semper laudetur, In nomine Patris et Filii e Spiritus Santi. Amen.